L'Associazione Pugliese Angeli Senza Frontiera ha indetto un premio di poesia nazionale per ricordare un giovane poeta venuto a mancare dopo una lunga e difficile malattia. E' già una realtà culturale il premio nazionale di poesia inedita sulle ali della libertà per ricordare Alessandro Fariello, un giovane poeta affetto da SMA che purtroppo a marzo ci ha lasciato. Alessandro nonostante la condizione di grande sofferenza era uno dei soci più attivi dell'Associazione Pugliese Angeli Senza Frontiere che si occupa volontariamente di supporto e assistenza ai malati. Abbiamo istituito questo premio Alessandro Fariello proprio in memoria di questo socio onorario, un ragazzo di 36 anni, poeta di Grumo Appula che come si diceva giustamente purtroppo due mesi fa ci ha lasciato. Ci è sembrato il modo più giusto per ricordarlo anche in rispetto della sua personalità e delle sue capacità espressive. Questo premio di poesia, questo premio nazionale è un premio dove non si vince nulla, è tutto gratuito, non è un concorso con vincite, ma è solamente un modo per ricordare questo nostro socio onorario. E' composto il premio di una sezione unica e sarà una poesia inedita dal tema La Libertà. Questa poesia deve essere inviata entro il 15 ottobre 2021 all'indirizzo che si trova sulla pagina Facebook Premio Alessandro Fariello. E poi il 7 dicembre 2021 ci sarà la serata conclusiva dove appunto si premieranno le poesie che verranno valutate da una giuria appositamente creata.